Eccellenza, a Monte Sant'Angelo la festa in onore di San Michele Arcangelo è sempre molto sentita dalla popolazione. Come l'ha vissuta, come l'ha sentita? Sì, la festa di San Michele attira a Monte Sant'Angelo numerosi pellegrini da parte, da tutto il mondo. E naturalmente i montanari sono coloro che lo vivono più intensamente questo giorno di festa. Quest'anno poi la festa è coinciso con la domenica, quindi i pellegrini mi sono sembrati anche più numerosi. Questa mattina abbiamo celebrato la Messa Solenne in Basilica e poi questa sera abbiamo concluso con una bella, lunga, partecipata, sentita processione. Abbiamo chiesto durante la processione, l'intercessione dell'Arcangelo per le necessità che l'ora presente richiede. In particolare per le famiglie che vivono la crisi, la crisi economica e anche per le nostre città che vivono comunque momenti di disorientamento. L'Arcangelo Michele lo abbiamo invocato perché ci presti le sue ali per volare un po' in alto, per non cedere al pessimismo e per chiedere al Signore ogni aiuto necessario, perché la nostra vita riprenda il suo cammino con speranza, con fiducia, con fede.